Ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo nuovissimo video di mates in minecraft come vedete sto abbattendo un po' di legno perché ci servirà per il progetto di oggi voglio andare a costruire un porto, esatto, noi come sapete siamo lontani dagli altri ragazzi ci siamo messi su un altro praticamente semicontinente, c'è un oceano, un mare, un fiume, non so cos'è in mezzo a noi e gli altri mates, giustamente abbiamo il collegamento del nether che è fatto apposta e ci serve per muoverci rapidamente tra le varie basi, la piazza centrale e tutto quanto però giustamente è anche giusto e sto dicendo troppe volte la parola giusto avere un qualche tipo di controllo delle barche che arrivano, una specie di autorità portuale l'autorità portuale di solito sta in un porto, quindi voglio fare un porto, per fare un porto ho bisogno del legno ora io sto prendendo un botto di legno di quercia qui, però non so se voglio usare il legno di quercia infatti come vedete ho nell'inventario anche dei alberelli di spruce perché sono molto tentato di mettere questi qui e farli crescere con un bonnimon meal anche perché sono curioso di sapere se crescono o meno perché potrei aver messo questo blocco troppo basso e magari non cresce, ho fatto un fiume unico però spero di no intanto lasceremo spaccarsi tutto da soli, io prendo le mele che sono importanti perché un giorno mangerò solo mele d'oro e carote d'oro nel mondo di remida comunque no, si ho preso un botto di ferro di legno prendiamo anche un po' di grano perché io direi che è il momento di dar da mangiare a questi cucciolotti vieni qua cucciolino, cucciolino, eccolo qua quante ce ne sono di muc, non si sa, vabbè noi lasciamole lì poi ha una certa che creò il bottone per la lava e lì saremo tutti contenti ok ho piazzato gli alberelli di spruzzo, intanto li lasciamo qui si sta facendo notte quindi andiamo prima a dormire ed iniziare a fare cose ora in realtà c'è da dire che io mi sono notato un po' dalla costa che mi collega poi alla base, allo spawn quindi andare ogni volta davanti e indietro sarà un po' un casino ma non è questo l'importante, l'importante è che se non ricordo male noi avevamo una costa non troppo grande nel senso non è che c'era una spiaggia enorme su cui basarci e fare una bella costruzione una bella diciamo stazione portuale, una roba del genere se non sbaglio c'era subito la montagna con pochissima costa quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare dei ponteggi, dei pontili, dei pontili anzi e potenzialmente il nostro porto sarà a questo punto dentro la montagna mi viene da pensare allora questo era il mio porto fino ad ora una barca incastrata tra i blocchi quindi diciamo che non è proprio messa bene questa è la prima caverna in cui sono entrato sono abbastanza sicuro di ciò anche il ferro vai prendiamolo intanto qui è tutto da rimodellare io farei una cosa di questo tipo come vedete la spiaggia purtroppo non è molto grande qui abbiamo una piccola montagnetta di sabbia che è un po' diciamo pronta a cadere tutte queste particelle se io spacco uno di questi blocchi cade tutto e sarebbe davvero un peccato quindi potremmo avere qui tipo una serie di pontili tipo collega questa parte a quella parte magari un paio di cose che vanno verso fuori la mia idea era anche di farci proprio fisicamente delle barche più grandi in modo da dare l'idea del porto e poi in realtà qui ci serve una bella zona dove costruire potremmo anche fare qualcosa però dentro la montagna se non che c'è prima di questa sabbia qui che mi dispiace levarla ma forse è il momento di levarla per l'appunto faccio un'altra caverna ma non ci sono entrato c'è un po' di ferro ehi quanta sabbia qua no vabbè ok troppa sabbia ci sta la spiaggia ma mi sa che qui voglio fare proprio la cosa portuale o lo faccio sopra la collinetta allora partiamo dalla base e la base sarà costruire piazziamo intanto una crafting table costruire questi pontili come li facciamo io stavo pensando a qualcosa di un po' particolare per fare dei pontili però se ci pensate più grandi sono più ridicola è la barca quando mi si avvicina quindi non voglio fare delle cose larghe un blocco perché sarebbe brutto però pensavo di fare largo 2 o 3 forse è meglio 2 l'altra mia diciamo preoccupazione era di scegliere se farlo sopraelevato oppure dentro l'acqua e la mia scelta penso sarà di farla dentro l'acqua per un altro semplice motivo che se io ho un blocco qua in alto e provo a scendere dalla barca mi fa scendere in acqua mi fa scendere sul pontile e quindi perde senso è per questo che se avremo dei pontili io direi di farli in questo modo per il momento userò solamente questo legno legno di quercia che ci sta bene perché come sapete un legno chiaro con la sabbia è una delle combinazioni diciamo d'oro su quelle più belle, gli evergreen che vanno sempre bene ho bisogno di un botto di legno perché questo qui non basterà mai nella vita comunque ne faccio un paio magari li faccio andare anche un po' avanti e poi vediamo a che situazione siamo questa è la prima bozza, questa è la base da cui partiremo ho piazzato del legno completamente seguendo la costa e ho lanciato tre diciamo pontili che vanno verso avanti uno più lungo dell'altro cioè in realtà sono lunghi più o meno uguali solo che partono da punti diversi e ho cambiato la mia idea non saranno più larghi 2 bensì penso che li farò larghi 3 forse addirittura 5 quindi cosa di grande, di maestoso e aumenterò di sicuro anche questa costline perché due blocchicini così è brutto potremmo fare qualcosa di figo utilizzando del legno poi degli slab di cobblestone e anche dei cobblestone wall potrebbe essere una bella idea ci lavoro su ancora un po' e poi vediamo stavo cercando delle pecore e ho trovato il fosso in cui eravamo nello scorso episodio a minare giusto per far capire dove cacchio eravamo arrivati sì in realtà io sto cercando delle pecore per farmi un letto e non dover tornare a casa ma penso di dover tornare a casa perché non ne trovo di pecore qua c'è un creeper e ce la faccio? per questioni pratiche ho deciso di prendere la mia ascia e metterci sopra unbreaking e efficiency e sharpness vabbè c'è anche sharpness a sta roba vabbè mettiamoci anche sharpness e potenzialmente mi piacerebbe avere un efficiency 5 perfetto ora abbiamo una ascia che spacca i culi e che è one shot al legno in teoria e che fa anche male perché c'ha sharpness sopra cioè la mia c'ha sharpness 5 e questa fa più male è vero che è più lenta però fa più male e sta diventando notte e io ho raccolto finora solamente legno e neanche tutto il legno che avrei voluto perché purtroppo lo spruzzo non sale là sopra in realtà non è neanche comodo come cosa separare così saplings quando in realtà se ne metti 4 vicini e ti fa un super albero che raccogliere è molto più facile anzi ora ne facciamo anche un altro così vediamo quanto è veloce sta ascia allora dicevamo 1,2,3,4 ok bello alto ahhh si come piace a me instant che bestiolina questa ascia si cucciolina ok anche perché avevo una mezza idea di sostituire tutto il legno che ho messo con del legno di spruzzo perché secondo me potrebbe essere più carino con la cobblestone quindi mi sa che lo faremo allora sto sostituendo i vari moli pontili non so come si chiamano non ricordo ho levato il terzo ho fatto solamente 2 larghi 5 come dicevo e ora sto aggiungendo piano piano un po' di cobblestone ai lati per dare quel senso di contrasto che ci piace tanto forse andrò anche un po' più verso l'entroterra per coprire un po' di più col legno per il momento visto che è largo 5 comunque sto lasciando una zona interna di 3 di legno e il contorno sto facendo di cobblestone qui in cima poi forse faremo una cosa un po' a semicerchio che secondo me potrebbe essere interessante una cosa che di sicuro non avevo contato è di utilizzare così tanta cobblestone e mi è venuta anche in mente di fare qualche gru che non sarebbe male come idea secondo me perchè comunque un porto è una zona di carico scarico magari se passano delle navi mercantili delle cose di questo tipo ha senso fare una cosa di questo tipo allora vediamo voglio fare una scaletta una cosa tipo così ecco di sicuro è più carino così che avere una cosa piana e assettica ok il principio c'è dobbiamo lavorare su questo per lavorare su questo io pensavo allora di fare dei cobblestone wall che secondo me possono essere interessanti degli slab di pietra che secondo me possono essere interessanti un po' di fence che potrebbe diciamo somigliare alla corda quindi una cosa di questo tipo e poi mi serve un blocco da appendere che è tipo un blocco pesante che potrebbe sembrare del carico ad esempio la nave io potenzialmente la potrei mettere di qua o tipo le metterei una di qua magari più grande e di qua una più piccolina visto che questo pontile è più lungo a questo punto quello che potrei fare è farmi delle scalette con lo spruce così richiamo il colore del molo e fare una cosa di questo tipo tipo 1 2 3 4 ci metto un paio di blocchi di cobblestone e poi con le fence salgo un po' quindi tipo non me lo fa piazzare una cosa di questo tipo in cima ci mettiamo degli slab che vanno invece tipo da questa parte più lungo è più sembra una gru forse così lungo forse un po' più no vabbè così va bene così sopra l'acqua mettiamo un paio di fence e poi ci mettiamo non lo so le betulla così sembra che stai raccogliere sembra una gru no? potrebbe sembrare una gru? si e forse ci metto anche un blocco intero qua dietro così sembra tipo il contraccarico guarda una bella gru per noi ora se qui mettiamo una bella barca magari anche da questa parte mettiamo tipo una grossa qui e una piccolina un po' più di qua abbiamo comunque bisogno di una mini struttura di una casettina in realtà si sarà una mezza cagatina che non useremo mai ma sarà qui solo per bellezza quindi io direi facciamola veloci e in dolore veloci e in dolore diciamo un po' di spruce wood un po' di legno un po' di cobblestone e abbiamo la nostra struttura allora questa diciamo che è la struttura facciamo come a scuola anzi come nella settimana enigmistica e uniamo i puntini facciamo una cosa di questo tipo sarà una struttura tipo così qua ci sarà la porta molto semplice dentro ci mettiamo magari un paio di barche piccolina facile il tetto sarà fatto di cobblestone così richiamiamo la combinazione di colori che abbiamo appena usato anche se non ne ho mai nella vita così tanta 37 slab basteranno? bella domanda allora io direi partiamo da fare una base soprattutto e la risposta è no non basta e allora facciamo così e andiamo a prendere un po' di cobblestone abbiamo delle caverne tanto vale usarle ovviamente non preoccupatevi conto di farla in modo che si possa saltare quindi non sarà semplicemente alta 2 perché una volta entrati avremo un altro stato di slab non ci credo che ne manca uno dai questo qui perfetto per il momento potrebbe andare bene così forse lo faremo un po' sporgente quindi una cosa di questo tipo qua dentro saranno tutti slab di sabbia e secondo me piano piano otterremo quello che vogliamo c'è una bella casetta in cui si può anche saltare incredibile la porta facciamola normale io direi facciamo anche una cesta perché qua sto avendo un po' tanta roba da parte e la mettiamo qua dentro tra l'altro nell'angolino ok questa è la base qua sotto ovviamente magari abbiamo lo slab ci mettiamo un blocco intero di sabbia altrimenti non ha molto senso qui mettiamo un altro blocco intero di sabbia e sopra ci metteremo la crafting table che invece abbiamo per ora messo qua fuori qui spostiamo anche il letto così abbiamo una base qui e per mettere il letto lo mettiamo qui nell'angolino questa volta però con degli slab ok il nostro lettuccio ci entriamo? forse non è abbastanza alto ma si si basta basta mettiamo un paio di torce qui si per me è molto spoglio manca soprattutto una fornace in cui cuocere quel poco in realtà pochissimo vetro che posso fare però così posso fare un po' pochissimo un po' di vetro quanto vetro posso fare? davvero poco bisogno di un'altra sabbia per fortuna nel mare ce n'è tanta un'altra cosa che ne ha da fare è forse dare un minimo di profondità a questo tetto altrimenti sembra solo una cagatina diciamo una cosa di questo tipo questo albero va assolutamente abbattuto perchè mi sta dando troppo fastidio dormiamo magari ora rispondo fuori dalla casa cioè mi sveglio fuori dalla casa oh mi sono svegliato bugato e rimbalzo sul letto che figata vabbè giustamente sono bugato e non posso più uscire bello forse dovrebbe essere un blocco più in basso forse se lo metto qui è meglio oddio sembra la brandina dei pirati ecco però così va bene ho un altro po' di vetro per finire questa struttura perfetto mi mancano tre pezzettini e intanto voglio appendere un altro po' di cobblestone qui nella miniera ok così già più carina vediamo un paio di cobblestone walls e mettiamo un paio a caso forse avrei bisogno di un paio in più in realtà facciamo così mettiamo un paio anche qui un paio qui all'angolo qua dietro anche abbiamo una bella casettina sul molo che piano piano sta prendendo forma lasciamo la barca qua dentro così è proprio una vera e propria casa di pirati una cosa bella potrebbe essere aggiungere un'altra gru dall'altra parte nel senso il molo ce l'abbiamo a questo punto tipo lo mettiamo un po' più avanti un paio di blocchi qua uno due tre questo tipo lo mettiamo a destra quindi va di qua oppure in diagonale potremmo provare in diagonale una cosa di questo tipo non so come potrebbe venire fuori alla fine però tentare non nuoce questi vanno levati quindi potrebbe sembrare un po' diciamo fragile vediamo di slab che comunque non ho moltissima cobblestone al momento io potrei fare una cosa di questo tipo e qua in fondo mettere tipo un blocco di legno così sembra che sto spostando qualcosa ecco di sicuro mettere in diagonale aggiunge valore perché quella è bella ma questa è un po' di più bella e ci mettiamo anche il contrapeso ovviamente che potrebbe essere anche ad angolo a questo punto no no mettiamone solo uno piccolino perfetto ovviamente ho bisogno anche di illuminazione quindi ogni tanto aggiungiamo dei cobblestone wall con sopra delle torce sono molto importanti perché durante la notte soprattutto l'illuminazione è essenziale sia per i mob ovviamente ma anche per far sembrare più bello il tutto quindi facciamo un altro po' con me non ho neanche chissà quante torce craftiamone altre io direi che piano piano il nostro molo sta acquisendo valore mancano davvero solamente le barche purtroppo per fare le barche non ce le faremo in questo episodio quindi questa è la prima parte della costruzione del molo le barche le faremo un'altra volta perché purtroppo avevo solo un'oretta e mezza ed è volata via così però sono contento del risultato e soprattutto sono contento di aver cambiato il legno perché quello di quercia non avrebbe reso altrettanto secondo me quindi io vi dico che per questo video è tutto mi rubo un attimo la barca perché per fare la copertina voglio andare un po' a largo e magari attivare anche le shaders vi dico che ci vediamo nel prossimo episodio vi ricordate mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto insomma su twitter, instagram, facebook e ovunque voi vogliate io vi saluto ciao a turuturututti ciao